Salvatore Paolino e Francesco Papa sono solo voci fuori dal cuore. Antonio Pappaterra, consigliere di maggioranza della comunità montana, al totirena Penino Paolano, risponde così ai due rappresentanti d'opposizione dell'ente montano con sede a Verbicaro, che con una mozione chiedevano di accelerare la chiusura della stessa. Il consigliere di Orso Marso non va per il sottile. Papa e Paolino, dice Pappaterra, con questa mozione vanno anche contro il PD, partita al quale dicono di appartenere e che è contro la chiusura delle comunità montane. Inoltre, continua le ragioni di Paolino e Papa non sono legate a logiche di salvaguardia di risorse umane, economiche o di buon governo, conclude, ma vogliono isolare i loro comuni di appartenenza da un confronto che la comunità montana ha sempre garantito. Secondo Paolino e Papa, infatti, l'immediata chiusura della comunità montana di Verbicaro sarebbe necessaria, visto che non solo la regione Calabria ha ormai fatto intendere la volontà di incorporare gli enti montani in un'unica agenzia regionale che comprenda Afore e Arsa, ma anche perché l'ente montano è stato ormai svuotato di ogni sua funzione e pertanto non si possono giustificare sose spese telefoniche e costi accessoriche, a detta di Paolino, sono pessimi esempi di gestione del denaro pubblico. Conosciamo ormai la prassi tipica di quei personaggi che vanno contro tutto purché vadano contro è stato il commento del consigliere di maggioranza della comunità montana al totirena Penino Paolano. Paolino e Papa sono come quei bambini cui, se si toglie il giocattolo, preferiscono distruggerlo piuttosto che lasciarlo ad altri.